A pochi giorni dagli incontri sul bilancio partecipato, i comitati di quartiere di San Benedetto si schierano contro il comune. A dar manforte alla polemica è stato Fosso dei Galli, che ha lamentato una scarsa influenza del comitato sulle decisioni e la mancanza di manutenzione ordinaria. In comune però c'è chi affronta la questione in maniera generale e si sofferma quindi sul ruolo dei comitati e sulla loro effettiva utilità. Il consigliere di rifondazione Daniele Primavera infatti si pone delle domande essenziali. Prima fra tutte è se effettivamente ai cittadini, oggi nel 2009, questi comitati servono ancora e se svolgano con efficacia la funzione di mediatori con l'amministrazione. Effettivamente in una società dove si può dibattere con un assessore comunale su Facebook, sono davvero ancora necessarie elezioni, assemblee, cariche e presidenze varie? Penso da un lato che debba essere sostenuto in ogni modo, da un punto di vista logistico e da un punto di vista economico, tutto ciò che è atteso all'operatività dei comitati di quartiere. Quindi l'organizzazione di eventi, anche la possibilità di creare dei momenti di aggregazione e anche di sostenere delle proposte di prospettiva. Dall'altro io credo che però il cittadino non abbia alcun bisogno di mediatori per risolvere i suoi problemi quotidiani, ad esempio quelli di vicinato, come la sistemazione di una strada, di un marciapiede o di una buca. Io penso che questo ruolo qui debba averlo neanche l'amministrazione comunale, ma l'ente comunale. Cioè che ogni cittadino abbia il diritto di poter telefonare al comune, di poter contattare direttamente il comune senza passare né da comitati di quartiere né da amministratori e di poter segnalare una situazione di disagio alla quale una struttura efficiente è capace di rimediare. Secondo Primavera Poi, i comitati andrebbero rivisti completamente per sfuggire la lottizzazione, fin troppo evidente, da parte della politica. Quello che i cittadini vogliono è eleggere persone che siano dei riferimenti concreti per la comunità. In mancanza di ciò, si può benissimo pensare di bypassare queste istituzioni spesso obsolete.